buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video finalmente siamo qui con una challenge e quale challenge sarà mai secondo voi forse 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 la maglietta potrebbe essere un indizio forse il periodo potrebbe essere un indizio forse l'ho scritto nel titolo quindi è inutile che faccia tutta questa suspense arriviamo al dunque oggi mi sfiderò a mangiare per 24 ore solo cibo di halloween io amo questa challenge amo questa sfida è una delle mie preferite e infatti la porto praticamente ogni anno sapete che io ho una memoria che fa schifo quindi io ogni anno vado a rivedermi i video vecchi che ho fatto negli scorsi anni per evitare di ripetermi nelle cose non vorrei mai essere una copia della me stessa del passato quindi mi sono riguardo tutti i video sono stata molto contenta di vedere che le idee che avevo per quest'anno non c'erano già nelle idee passate e quindi direi che possiamo iniziare e iniziamo subito con la colazione colazione che sarà super bella ed educo anche super buona perché qui ho questo bassoietto della pasticceria cake angels una pasticceria che si trova a torino è la pasticceria della mamma di gabri che fa anche cose vegane quindi qui dentro ci sono dei biscottini di halloween vegani io ho già aperto ho già spiato in realtà se mi seguite su instagram ne avete anche già visti perché io posso segnare le storie e ce n'è uno in particolare raga che mi fa urlare volare morire e risorgere e non ce la farò mai a mangiarlo quello io lo voglio mettere sotto resina e incorniciarlo perché è troppo bello comunque la smetto di tenervi sulle spine vedete che vi faccio vedere siete pronti a vedere queste meraviglie raga vi prego vi prego quanto sono belli ma state notando lui o meglio lei o meglio me stessa c'è raga questo il biscotto strega con il topino sul cappellino i capelli bianchi e neri no vabbè io raga c'è come faccio a mangiarlo questo io non potrei mai lo voglio conservare per sempre troppo troppo bello poi abbiamo questo che è uno dei miei preferiti la lapide con scritto rip questa sirena mostruosa l'amo non avevo mai visto le sirene ad halloween mi fa volare questa cosa il gatto nero il fantasmino la zucchetta non so quale mangiare onestamente adesso ci penso quindi colazione con biscottini e un fantastico ciai latte che sa proprio di autunno e ci sta da dio potevo fare il punk in spice latte vero ma sarebbe tipo il terzo anno di seguito che bevo il punk in spice latte nella colazione della challenge di halloween quindi per cambiare ciai latte che comunque insomma più o meno il sapore è sempre quello anzi assaggiamo datemi una bevanda con delle spezie autunnali e io sarò felice e ora tocca i biscottini e io onestamente non so quale sacrificare raga vi giuro penso di voler sacrificare lui il povero gattino a cui praticamente ho già rotto la coda quindi partiamo proprio dalla coda mega buoni direi pasta frolla se non sbaglio buonissimi raga belli e buoni consiglio per pasticceria cakeangers falli più brutti perché veramente io mi sento in colpa a mangiarli cioè adesso io devo decapitarlo lui poverino capisci lo voglio però ne vale la pena effettivamente raga ma quanto sono contenta di poter avere finalmente i miei biscotti di halloween vegani mai mai avuti nella mia vita sono contentissima partiamo la super grande colazione approvatissima ora me la finisco e ci vediamo dopo con il pranzo ed eccomi tornata per il pranzo ma cosa avrò mai tra le mie mani loro questi gnocchi di zucca a forma di fantasmino ditemi se non sono la cosa più halloweeniana che abbiate mai visto io non vedo l'ora di provarli perché riguardando i video vecchi ho scoperto che alla fine non li avevo mai trovati da Lidl quindi magari sono una novità o magari non sono una novità ma non li avevo mai trovati chi lo sa amo gli gnocchi zucca ma proprio amo alla follia quindi spero che si senta questa zucca e andrò a condirli in un modo che non so bene cosa uscirà ok c'è questo moscerino vai via nella mia testa potrebbe funzionare e creare quindi una situazione un po' un po' strana un po' inquietante un po' creepy se non funziona e vabbè avrò fallito mi auguro di no vado a prepararli ci vediamo appena è pronto ed ecco qui i miei gnocchi pronti cioè ditemi che non è un'opera d'arte così mi sentivo un po' candischi l'aspetto è abbastanza inquietante speriamo che però siano buoni andiamoci a mangiare però vorrei che li ammirassi ancora un po' perché è veramente un capolavoro ah poi vi spiego come li ho fatti e cos'è questo condimento inquietante anche perché non ho utilizzato coloranti artificiali posso dire di essere estremamente soddisfatta ma come li ho conditi questi gnocchi praticamente c'è una base di olio basilico con un pochino anche di curry per dare quello spice in più e poi questa cosa invece sopra così molto bluastra è semplicemente olio extravergine d'oliva con dentro l'alga spirulina blu signori mia grande alleata vediamo come sono usciti Amita è particolarmente interessata come sempre vero? come se tu non avessi appena finito di mangiare tra l'altro e buon appetito mmm sono un botto chewy forse gli ho fatti cuocere un po' troppo comunque a me la cosa non disturba quindi va bene buoni? mammo non sento la zucca dov'è la mia zucca? cioè sinceramente se dovesse mangiarli i gabri che a lui appunto non piace la zucca nemmeno la percepirebbe secondo me ecco quindi degli gnocchi normali con l'aspetto carino però dov'è la mia zucca? delusa solo da un punto di vista di gusto peccato che cavolo però anche i medaglioni quelli alla zucca sempre di Lidl quelli che mi aveva preso gabri buoni ma anche lì la zucca non pervenuta vogliamo un po' spingerlo questo sapore di zucca perché se io compro una cosa a gusto zucca voglio sentirla dannazione eh no raga qui purtroppo proprio zero zucca meno male che almeno la parte estetica mi soddisfa talmente tanto da non farmi rimanere troppo male ecco fatemi sapere se anche i vostri erano così gommosi così ciui se li avete presi perché mi sembra un po' strana questa consistenza però ripeto avrei potuto sbagliare qualcosa io nella cottura fermi fermi tutti un secondo sto forse percependo della zucca mi è sembrato di sentire proprio del dolcino mi è arrivato così improvvisamente forse più li mangio e più mi arriva la zucca ecco magari mangiati ancora più al naturale si sente la zucca ma cioè più al naturale di così voglio dire è soltanto olio basilico un po' di curry e un po' di spirulina che è praticamente in sapore quindi cioè dovrei proprio scolarli e mangiarmeli così per sentire la zucca sì impegnandosi un pochino in lontananza la percepiamo comunque non raggiunge un livello soddisfacente secondo me li ricomprerei sì solo per l'aspetto ebbene il mio pranzettino è andato cioè sta andando lo so per finire io dopo devo andare a far la spesa perché devo cercare un ingrediente per la cena sono indecisa tra due cose vediamo quella che riesco a trovare perché non ce l'ho in casa e io in teoria non dovevo registrare oggi questo video è stato tutto un po' così all'improvviso all'ultimo minuto ma visto che ci siamo vado compro ciò che mi serve sperando di trovarlo ma tanto prima della cena ci vediamo con la merenda grazie per questi lavori che state facendo al piano di sopra mi mancavano effettivamente e facciamo merenda non sapevo cosa scegliere tra le tortillas viola queste di Lidl di Halloween le abbiamo prese insieme oppure queste altre patatine al gusto ketchup sempre di Halloween mi sono detta perché scegliere quando posso mangiarle entrambe quindi le assaggeremo tutte e due prima proviamo queste qui me le aspettavo più viola onestamente sono stata fregata no vabbè effettivamente anche nell'immagine hanno questo colorino assaggiamo buone sanno di tortillas di cosa devono sapere classiche cambia solo il colore ma il sapore è sempre quello buone mi piacciono tantissimo penso che le tortillas riempiono tra i miei snack preferiti se devo scegliere tra patatine cose del genere loro mi piacciono sempre tantissimo approvate assaggiamo ora queste qui che carine vi prego raga è una ragnatelina bella arriva un profumo bello convinto io amo le patatine al ketchup quindi sono abbastanza sicura che mi piaceranno buonissime c'è anche quella forma di ragnetto e sono buone raga che vi devo dire molto buone su queste non avrei il minimo controllo e me le mangerei praticamente tutte in un secondo queste invece magari così dopo un po stufano invece con una bella salsina guacamole cose del genere anche lì diventa difficile gestirsi bene sono molto contenta contenta anche di aver fatto una merenda salata che sapete che io preferisco con addirittura due scelte di patatine vabbè ragazzo è si vuole altissimo qui alla fine invece per la cena devo rivedere un po l'idea che avevo c'è nel senso che la parte esterna rimarrà quella devo capire l'interno come farlo perché avevo detto che dove andare al supermercato ma ha deciso di arrivare un bellissimo temporale a quanto pare smetterà di piovere domenica e io oggi sto registrando è martedì no mercoledì scusate è mercoledì quindi mi viene un po scomodo andare al supermercato perché ci vado a piedi non avendo la macchina e quindi insomma non ho voglia di lavarmi completamente adesso controllo cosa ho in casa se posso comunque arrangiarmi in qualche modo tanto diciamo che in realtà è più la parte esterna che farà la scena principale però volevo anche fare un interno un po così violaceo che vabbè in qualche modo farò non vi preoccupate intanto finisco la mia merendina poi portiamo i cani quello purtroppo sotto la pioggia dobbiamo farlo per forza perché non si possono pesciare addosso sarà una passeggiata molto breve ragazzi e poi ci vediamo con la cena che a sto punto chissà come farò non lo so voi fidatevi e sto preparando la cena infatti se sentite un rumore in sottofondo è la friggitrice che sta andando la friggitrice ad aria ovviamente vi faccio vedere cosa sto utilizzando per preparare la cena ovviamente la pasta sfoglia nera dovevo per forza non potevo fare questa challenge senza utilizzare la pasta sfoglia nera vegana che abbiamo preso da Lidl quindi chissà cosa avrò fatto alla fine la scelta del ripieno è stata anche molto semplice perché era un colore così ovvio che andava benissimo per halloween sto dicendo per natale vabbè è facilmente reperibile nella mia dispensa quindi il tutto si sta cuocendo tra poco sarà pronto e speriamo sia uscito sia bello che buono ci vediamo tra poco ed ecco qui la mia cenetta pronta un po inquietante forse ma è quello che vogliamo ho fatto questa bara nera c'è anche la croce con all'interno questo ripieno di formaggio e pomodoro mamma mia che bellissimo vabbè adesso l'ho rovinato però era bellissimo mi ritengo pienamente soddisfatta a livello visivo è uscito esattamente come volevo una mega bara pizza possiamo definirla così ma vediamo com'è all'assaggio sarà buono non sarà buono secondo me è ustiona però mmm buonissimo è una pizzetta può non essere buono una pizzetta ovviamente no cotta la perfezione e anche la quantità di ripieno cioè è tutto perfetto signore è tutto perfetto cotta un po' questa pasta direi che è il caso che glielo lascio raffreddare un po' spero comunque di avervi dato una bella idea se dovete fare una cena un pranzo una merenda qualcosa ad halloween direi intanto che lascio raffreddare il tutto magari ci salutiamo e concludiamo anche quest'anno questa challenge di halloween prima però scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti e l'hashtag della fine potrebbe essere ce l'ho facciamo hashtag fantasmino perché stavo guardando la mia tovaglia e qui c'è questo fantasmino che mi sta guardando e mi sorride quindi sì hashtag fantasmino è in tema con halloween scrivetelo qui sotto nei commenti io vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link di tutti i miei social così se vi va potete seguirmi anche lì vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo ciao buon halloween dan 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 danathan dan 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 implementation goals